Continua il percorso con l'estate avellinese, oggi per lo spazio Social Day, Nicomeoli per gli amici del Roseto, con musica di intrattenimento dalle ore 17. In piazza a Biagio Agnes in scena il Salotto di Platone, con Massaro ed il maestro Spiniello, alle ore 19. Ancora in via Carducci, alle ore 21, il concerto del cantautore Irpino Luca d'Arbenzio, con il gruppo dei Solenoid. Contemporaneamente per il corso Vittorio Emanuele di Avellino in piazza a Biagio Agnes a Tiliorenna, per lo spazio dedicato alla musica latina. L'organizzazione ha pensato di soddisfare tutto il pubblico, dai più grandi ai più piccoli, dalla musica di ascolto all'intrattenimento ballerino. Siamo solo all'ottavo giorno di questo cartellone e l'Avellino Summerfest, con le novità dell'anno, Social e WhatsApp, ha conquistato il cuore degli Irpini. Essere sempre aggiornati su ogni attività e sapere quotidianamente quali sono gli ospiti del progetto non lascia scappare nemmeno un appuntamento.